Sì, il modo in cui l'Occidente ha pensato di integrare persone che vengono da culture diverse, perché per me il vero problema è questo falso bonismo, integrare che chi viene deve accettare in toto quello che sono le nostre leggi, le nostre tradizioni, le nostre ugenze, tutto quello che è il concetto di Occidente, se uno viene qua non può pensare di portare la sua cultura, imporla qua.